Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Sei gay? Il concorrente messo all'improvviso alle strette. La verità sul suo orientamento Dopo più di 40 giorni di permanenza all'interno del gioco, perché in tale maniera si dovrebbe sempre e comunque vedere, la noia così come le tensioni sono ormai alle stelle L'uscita per sua stessa volontà dalla casa più spiata d'Italia della bellissima Heidi Baci, dopo un confronto con il padre, ha fatto e sta facendo tuttora molto discutere I suoi colleghi ne sono rimasti sconvolti e quello che ha ora il cuore spezzato in mille pezzi è Massimiliano Varese che si è preso una mega cotta per lei, nonostante l'ingente differenza di età che vige tra di loro Lei ha giocato con lui con tanti tira e molla e dopo che aveva accettato di iniziare a conoscerlo meglio, lo ha lasciato con l'amaro in bocca negando il suo interesse e dandogli del pesante Ora a far soffrire all'interno del padre di tutti i reality è l'uscita, tramite il televoto, di Samira Lui Tra l'altro l'ex professoressa dell'eredità inizialmente era tra le preferite del pubblico Tuttavia quando ha iniziato a parlare molto male della Luzzi e a mettere in atto scenate di gelosia nei confronti di Garibaldi pare che i consensi dei telespettatori siano scemati Sei gay, la domame da bruciapelo.E ora tanti occhi sono incentrati sul bel Mirko, ex star di Temptation Island Il ragazzo ha fin da subito suscitato l'attenzione dell'inquiline single, soprattutto della simpaticissima Valentina che è alla ricerca di un fidanzato Fatto sta che pare che lui non sia interessato a lei, così come non lo è Vittorio che in ogni caso ha sempre speso belle parole nei suoi confronti Anzi, ha ammesso che lei ha una gran testa. E chiaramente una cosa del genere pronunciata dall'affascinante ingegnere e modello, è un grandissimo complimento anche perché lui non è di certo il tipo che ama aprirsi molto soprattutto per quanto concerne il vasto mondo dei sentimenti E ora è arrivata la domanda a bruciapelo da parte della Luzzi Sei gay? In quell'esatto istante la stessa domanda gli è stata posta anche da Letizia che si è stupita di avere la stessa curiosità di Beatrice La risposta dell'inquilino non è tardata ad arrivare. Siete fuori strada Se lo fossi non avrei problemi a dirlo, ha dichiarato con tranquillità. La curiosità era nata nella mente delle due inquiline dopo che lui aveva parlato a cuore aperto della sua attuale situazione a livello di cuore In poche parole aveva spifferato di non sentirsi interessato e completamente attratto da nessuna ragazza presente all'interno della casa Inoltre ha aggiunto che ciò sarebbe potuto succedere se ce ne fosse stata una con l'aspetto fisico di Anita e il carattere, nonché la testa, di Valentina E a quel punto sia Beatrice che Letizia hanno fatto in contemporanea la famosa domanda Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video